Oggi in 60 secondi andremo a vedere insieme come si fissa in auto l'ovetto SLK di Pecpergo con la sua base Isofix iSides. Primo step, fissaggio della base, facciamo uscire i nostri agganci Isofix. Secondo step, agganciamo i nostri connettori. Terzo step, spingiamo bene la base contro il nostro sedile. Quarto step, regolazione della barra stabilizzatrice anteriore. Quinto step, fissare il nostro ovetto. Ultimo step, andiamo ad abbassare il nostro maniglione completamente in avanti e siamo pronti per il nostro viaggio. L'ovetto si sgancia con un semplice clic e per maggiori informazioni seguite i nostri video tutorial sul nostro canale YouTube.